buongiorno a tutti io so io sono marco del canale del commistar technology ed oggi andiamo a fare la recensione approfondita dell'iv 14 w 46 sarebbe sostanzialmente un'evoluzione del 46 faremo delle prove lo vedremo bene insieme e poi diremo le conclusioni venite a guardarlo insieme a me vedere la recensione approfondita dell'iv w 66 allora i cinturini sono compatibili apple watch da 44 mm e praticamente lo smart watch ha lo stesso sgancio quali identico a quello dell'apple watch quindi potete mettere qualsiasi tipo di cinturino apple watch o compatibile il display è 1 e 75 ai bordi qua che sono simmetrici mentre questo qua in basso leggermente più pronunciato alla luce del sole con la luminosità massima si riesce a vedere se avete qualche problema basta che fare un po di ombra con la mano si vede benissimo ho notato che questo smartwatch è leggermente più il display è leggermente più luminoso rispetto all'iv w 46 che aveva problemi di luminosità era un po bassa andiamo a vedere quante voce fesa una due tre sono quattro di cui una impostabile dall'app e potete anche praticamente impostare cioè personalizzare lo sfondo e adesso andiamo a vedere praticamente dall'applicazione come si fa bene adesso andiamo a vedere le voce fesche a sono una due tre quattro cinque sei sette 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 face che si possono impostare di cui una tipo impostare lo sfondo eccolo qua presente voi potete scegliere ok adesso è pieno comunque voi da qua potete andare a scegliere una qualsiasi immagine dopo avete scelto l'immagine come vedete qua potete la caricate potete mettere lo stile cioè il colore la posizione e poi dopo andare a impostare il quadrante a figlio ricaricare che voglio essere riuscita e adesso scusatevi come avete visto è impostata la voce face adesso andiamo a vedere le notifiche le notifiche ci sono quasi tutte quelle più importanti le potete visitare dal basso verso l'alto tendenzialmente ne memorizza all'incirca 15 però il messaggio praticamente non è tutto completo come vedete se voi lo aprite non c'è proprio il messaggio ma si interrompe potete eliminarla una per una oppure andando scusatemi andando in fondo le potete eliminare tutte quanti insieme diciamo che va bene adesso poi vi faccio vedere comunque dall'applicazione tutte quelle che può tutte quelle che potete impostare per le notifiche qua notifiche eccole qua vi faccio tutte quelle che avete avete messaggio messaggio di memoria quindi praticamente voi potete anche decidere di non collegare la risposta alla chiamata ma veriverà con quel messaggio potete attaccare sms posta web chat cucù facebook twitter whatsapp linkedin instagram messenger snapchat line kakaotalk weber skype telegram queste sono tutte quelle che voi potete ricevere dall'app adesso andiamo a fare una prova di una chiamata praticamente voi nell'orologio non avete nessun tasto o nulla che vi porta direttamente al dia di chiamata vi faccio vedere un piccolo trucchetto per andare più velocemente al dia di chiamata attivate spostate qua con la rotellina raggiate verso i basi e state già nel dia per le chiamate premete qua questa è il tasto questo è il tastierino componete il numero andate in chiamata come sentite non è molto alto il volume però potete fare tranquillamente una chiamata naturalmente nei locali un po più rumorosi avrete un po di problemi adesso vi faccio vedere anche solamente un attimo al volo sempre vi faccio vedere il trucchetto che praticamente ci sono i contatti frequenti che dopo andiamo a vedere dall'app e questo ed epilogo di tutte le chiamate che sono state fatte adesso facciamo la prova di ricezione di una chiamata come vedete lui squilla ci compare se nello smartphone c'è registrato nome e cognome ci compare il nome e cognome di chi chiama se non è registrato ci compare il numero di telefono potete rispondere o agganciare adesso andiamo a vedere le impostazioni dei preferiti o contatti frequenti fate aggiungere scegli un contatto mettiamo questo ne scegliamo anche un altro sceglie un contatto lo possiamo anche ricercare così alle messi due potete anche fare così e praticamente spostarlo tenendo premuto scusatemi ecco qua lo potete anche spostare ne avete messi due adesso andiamo praticamente nello smartwatch sempre solo trucchetto fate così andate in contatti qui avete due contatti e potete decidere di chiamare di chiamare fate così e lui va in chiamata e adesso attacchiamo perfetto e quelli sono i contatti ne potete mettere massimo 10 controllo musicale ricordatevi che dovete collegarlo tramite qua modello audio andiamo indietro andiamo a vedere controllo musicale eccolo qua facciamo play e sta partendo il video su youtube come vedete adesso è sull'orologio l'audio adesso noi lo stoppiamo non avete non avete il controllo del volume se volete l'audio sul telefonino basta andare giù andare qua dentro andate qua andate qua andate qua andate indietro andate indietro riaccendiamo facciamo play e come vedete l'audio è sul telefonino invece che sul potete andare avanti o indietro ok quindi potete poter scegliere anche dove praticamente dove sentire l'audio ma non potete regolare il volume dell'audio adesso andiamo a fare la prova dei battiti card 10 oximetro 88 e lo smartwatch 89 devo dire che ho fatto praticamente un po di prove alcune volte va bene altre volte un po di meno adesso andiamo a fare la prova dell'ossigenazione del sangue 97 lo smartwatch e 95 lo oximetro devo dire che ho fatto delle prove diciamo che quasi sempre uno scarto di uno o due in percentuale adesso andiamo a fare la prova della temperatura corporea mentre lo strumento misura io me la misuro questo è quello dello strumento 36 6 lui mi da 36 e 9 nell'altra misurazione non ho fatto un'altra mi dava 36 8 euro 36 e 5 dallo strumento quindi ha aumentato leggermente lo scambio a misurare la pressione con lo strumento apposito adesso 123 70 adesso lo misuriamo con lo smartwatch e lui da 110 72 sappiate che comunque non è facile misurare la pressione con questi dispositivi prendetela così per come i sensori prendete praticamente per un puro divertimento non vanno questi sensori a sostituire gli strumenti medici vediamo le conclusioni su questo smartwatch allora per quanto riguarda lo sport lui nelle mie prove ha rilevato praticamente dei batteri molto più bassi per quanto riguarda la distanza invece citiamo per quanto riguarda il discorso dei passi giornalieri rispetto al gts2 sovastima leggermente i passi e per quanto riguarda il discorso invece della batteria lui dura da un giorno e mezzo fino al massimo di due giorni dipende se voi usate o no la risposta alle chiamate e da quanto praticamente vedete quante praticamente notifiche ricevete ve lo consiglio fate voi a diciamo che a me è piaciuto però il mio punto saldo rimane sempre il v46 che per ora è quello più equilibrato io vi do un abbraccio se vi è piaciuto il video scrivete il canale e mettete un like e scusatemi per tutte le toppe che ho fatto